Ci giunge in questo momento notizia di una clamorosa evasione di quattro donne dal carcere femminile di Costa Magna. Monica Abler, 25 anni, nata a Trento, detenuta per organizzazione e partecipazione a bande armate. E' considerata l'ideologa della colonna nord-orientale del gruppo terroristico. Betty Osso, nata a Parma, 35 anni, stava scontando una condanna a 15 anni per rapina e concorso in omicidio. Diana Brown, 33 anni, romana, condannata a 10 anni per concorso in omicidio, spaccio di stupefacente e indicazione alla protettuzione. Erika Vernacci, 35 anni, nata ad Avellino. Dopo numerose condanne minori per adescamento, la corte d'assise di Napoli, ritenendola responsabile dell'omicidio di un protettore napoletano, la condanna a 12 anni di reclusione. Ingenti forze di polizia hanno costituito posti di blocco in tutte le strade della zona, nella speranza che le quattro evase non abbiano ancora lasciato il territorio. Ancora una volta l'esasperazione ha scardinato l'antiquato sistema carcerario, sostenuto dall'unica arma che la nostra società sembra saper utilizzare, la repressione. È nella promiscuità di celle per lo più vecchie di secoli, nel sesso umiliato da un'assurda astinenza, troppo spesso sostituita da un'omosessualità che talvolta coinvolge anche chi dovrebbe prevenirla, che insieme delle evasioni germoglia e prende corpo. Donne come queste, ancora giovani, costrette a vedersi sfiorire l'una negli occhi dell'altra, non possono che tentare l'impossibile per raggiungere almeno un'illusione di libertà. Basterà l'ingannevole miraggio di una villa isolata, nella quale potersi trincerare. La lusinga di Porto, le cui chiavi finalmente dopo anni siano nelle loro mani, a far dimenticare tutte le precauzioni, a farle ritrovare in una trappola ben più atroce del carcere. Liberi i sensi, col gusto delle armi ben salve in mano, con la possibilità di ricattare la giustizia, trasformandosi in spietate carceriere di ostaggi innocenti, vivranno ore febbrile in una veglia di amore e di sangue. La tigre del sesso non più repressa coinvolgerà in un unico amplesso carnefici e vittime. Le Evase, un film rigorosamente aderente alla realtà, dove niente è stato esaltato e niente oscurato, ma semplicemente raccontato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.